Guardate questa vettura e annotatela nella vostra mente, perché rappresenta qualcosa di davvero straordinario nel suo genere. Si tratta del concept F700 Mercedes-Benz, la prima auto al mondo in grado di riconoscere in anticipo le condizioni della strada e il livello di irregolarità del manto stradale. Come arriva a fare ciò? Chiederete. La risposta è nelle sospensioni Active Pre-Scan, che migliorano il comfort a bordo. Grazie a due scanner laser, queste sospensioni controllano la superficie stradale e compensano eventuali ostacoli rilevati. La grande particolarità di quest'auto però arriva dall'innovativo sistema di esotto, che abbina i punti di forza dei motori benzina ad emissioni ridotte con tutti i vantaggi in termini di consumi dei moderni diesel. Le emissioni di CO2 sono di soli 127 grammi per chilometro. Il consumo è di 5 litri e 3 di benzina per 100 chilometri. La F700 propone una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale, venendo comunque incontro a chi sente l'esigenza di possedere una vettura di gran lusso. La F700 è caratterizzata da forme morbide e fluide. La lunghezza esterna complessiva è di 5 metri 18. Lateralmente si vedono le curve tese del tetto e della linea di cintura, una reinterpretazione del design dell'attuale CLS, anch'essa con linee laterali tese. I passaruota anteriori si ispirano invece alla classe S. I fari anteriori si presentano come un'interpretazione futuristica dei fari anteriori doppi tipici di Mercedes e integrati in questi fari ci sono gli scanner per rilevare i dati relativi al manto stradale. Il design della F700 è caratterizzato da una grande innovazione tecnica. Gli interni presentano un abitacolo decisamente comodo per il viaggiatore, i materiali impiegati sono naturali come cuoio e sughero, mentre i colori rientrano nella gamma del marrone e del beige. I sedili sono reverse e rivoluzionano la disposizione tradizionale che in genere hanno le berline, con una posizione che viene personalizzata in direzione di marcia o in senso opposto. Decisamente divertente e comodo quindi gustarsi una proiezione audiovisiva sul monitor dotato di tecnologia 3D e di un sistema audio surround che creano un'atmosfera analoga a quella di un cinematografo. Innovativo infine il sistema applicato per la navigazione visto che il conducente può dialogare con un avatar, l'assistente operativo virtuale. Grazie a tutti! Grazie a tutti!